Pomodori da insalata. Quando andate ad acquistare i pomodori da insalata controllate che siano ben sodi, la buccia sia liscia e tesa senza grinze, segno di cattiva maturazione. Non ci devono essere spaccature che possano aver fatto penetrare all'interno microbi, insomma devono essere belli e turgidi. La stellina, cioè la parte verde sull'apice del pomodoro, deve essere bella fresca, segna di una raccolta avvenuta da poco. Se comprate i pomodori a grappolo controllate che non siano umidi all'interno del grappolo stesso, altrimenti questi pomodori marciranno in fretta.